Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Allora, questo come vedete è un altro video di Natale ed è un video in collaborazione con, questa volta, con un gruppo Facebook creato da Ketty e il gruppo si chiama Ketty Sentost quindi Sentost, non so e quindi niente, mando un bacio a tutte le partecipanti e a tutti coloro che fanno parte del gruppo mando un bacio a Ketty che è la ideatrice e creatrice di questo gruppo e direi di cominciare subito con il video il video è in collaborazione con il gruppo ma ognuno di noi decideva un video a piacere e naturalmente, visto che voi già sapete se non lo sapete, metto qui la scheda qui, 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 qui il primo video di Natale per quanto riguarda la guida ai regali quella era una guida ai regali regali da ragazza questa è una guida ai regali per il proprio fidanzato per il proprio compagno per il proprio omino per il proprio uomo per il proprio fratello per tutto quello che volete e tutto ciò che sia macchio quindi questa è la guida ai regali di Natale per i ragazzi ho deciso di fare una guida fino a Natale più o meno fino a Natale con questi regalini sia per le ragazze che per i ragazzi metterò quindi 5 elementi che secondo me sono sia tra i low cost e più diciamo expensive elemento e quindi direi di cominciare subito quindi ecco il video basta ok? basta allora diciamo che ho fatto un giretto su internet sui vari social eccetera eccetera ho visto un pochino i vari siti le idee regalo che avevano messo e devo dire che sono rimasta davvero davvero delusa non ho trovato chissà che su internet come guida quindi spero che questo possa esservi davvero utile allora come prima cosa ho deciso di consigliarvi un orologio sì allora secondo me un orologio è un regalo carino che può andare bene per Natale l'orologio può essere utile a tutti quasi a tutti gli uomini mi piace ho detto quasi e poi ci sono diciamo modelli che vanno dall'elegante quindi per l'uomo elegante modelli che vanno sullo sportivo o sul quasi non orologio quegli orologi sottilissimi oppure quelli là enormi ce ne sono di tantissimi tipi quindi in base al carattere del proprio uomo del proprio fratello della propria persona come si vuole fare il regalo penso che l'orologio sia perfetto perfetto le marche che io vi consiglio tornando sulla terra sono la chronotech che ha anche orologi abbastanza cari e quindi se volete fare un regalo un po' più importante e fino ad arrivare al casio che è tantissimo di tendenza e costa intorno ai 20 euro cioè quello semplice lo trovate 20 euro su amazon 19,99 quindi fate un giro su amazon e fate un giro su amazon per trovare anche il secondo elemento quindi il secondo regalo che secondo me secondo regalo che secondo me va bene è che sono un bel paio di cuffie soprattutto per i ragazzi quindi un bel paio di cuffie di quelle grandi ma anche eleganti che pure di quelle ce ne sono dai 200 euro fino ad arrivare ai 20 euro oppure addirittura hanno fatto delle cuffie che le trovate in qualsiasi io l'ho visto comunque anche alla Mondatori delle cuffie della Sony di vari colori che stanno addirittura a 14 euro quindi penso che questo sia un regalo perfettissimo terzo elemento di regalo ho girato un pochino i siti e quelli che mi sono diciamo piaciuti di più proprio entrando nel love cost cioè il regalo love cost per un ragazzo sono OBS e di CNM allora da OBS ho visto che c'è proprio una categoria sul sito idea e regalo per un uomo e quel non mi è piaciuto tantissimo perché era abbastanza idea e regalo per Natale ma mi sembrava idea e regalo per vestire un uomo per un matrimonio perché erano tutti super eleganti con questi completi pesanti la cosa che mi è piaciuta sono i pullover perché ci sono tantissimi pullover carinissimi vi metto giù tutti quanti i link dei pullover dei vestiti che ho visto quindi potete benissimamente cliccare andare a vedere ci sono questi pullover che vanno dai 29 euro ai 49 euro quindi 29,99 20 39,99 diciamo spazia un po' ed è bellissimo c'era un pullover davvero molto diciamo quasi a tinta unita con dei cordoni di di tessuto e penso che vada bene perché anche chi non ama i pullover amerà quella maglia perché è abbinabile sia dal ragazzo sportivo tra virgolette sia l'uomo elegante quindi pullover dai cnm che cosa ho trovato invece allora dai cnm ho trovato allora diciamo che lo stile sportivo è quello che mi è piaciuto di più sui cnm uomo e questo stile sportivo mi piaceva proprio tutto quanto il completo che c'era sul modello quindi questo maioncione grigio la tuta bella grigia larga e infine queste scarpe però io vi consiglio più le scarpe queste scarpe qui sono semplicemente nere ci sono con diciamo quasi alte fino alla caviglia semplici nere carine abbinabili quasi tutto a tutto e penso che siano davvero tantissimo di tendenza e costano davvero poco per un regalo di Natale quindi queste scarpe io assolutamente le dovevo mettere in questa lista guida poi detto ciò detto ciò l'ultimo regalo che secondo me forse potrebbe essere uno dei più costosi ma anche lì c'è la scelta perché sempre se andate su Amazon trovate anche lì vari modelli e vari prezzi di questo che vi sto per dire e cioè i drone ok cos'è il drone? il drone è quello a geggino tipo robot elettronico con la telecamera sopra incorporata e questi aggeggini che girano diciamo telecomandati si può anche comandare con il cellulare per la casa dei robot e ragazzi piacciono piacciono a me quindi sono veramente carini è auspizioso è un passatempo è una scretinata vogliamo dirlo forse è anche una scretinata però diciamo la città verità anche a noi ragazzi piacciono le cretinate quindi perché a un ragazzo non dovrebbe piacere una cretinata elettronica poi a quale ragazzo non piace l'elettronica a tutti quindi lo so i droni ah tra le altre cose volevo dirvi che ci sono quelli di 60 euro fino ad arrivare a quelli di 300 e passa euro che fa la Apple quindi anche lì potete spaziare quindi questi sono tutti i regali che possono essere sia low cost che expensive quindi spero che la guida vi possa essere stata utile ne vedrete vedrete penso almeno altre due una per la ragazza e una per i ragazzi fino al 22 23 perché poi penso che il 23 il regalo l'abbete fatto e se non l'avete fatto smettete di guardare questo video e andate a comprare regali di Natale quindi io vi mando un grosso bacio e il video è finito mi raccomando siete inscritti al canale e iscrivetevi subito per non perdere nessun video per non perdere questi cerchetti che cambiano ogni settimana e se il video è piaciuto e vi è stato utile mettete mi piace se non vi è piaciuto non fa niente mettete il non mi piace non mettete qualcosa quindi io vi mando un grosso bacio mando un bacio a tutte le ragazze con le quali ho collaborato e noi naturalmente ci vediamo al prossimo video ciao